Ciao a tutti e bentornati su Anita Stories Vado a fare gli slime più ASMR al mondo e sono tutti slime che non ho mai fatto quindi non vado a rifare il crunchy slime ad esempio ma vado a fare questi nuovi slime super ASMR che non ho mai fatto sono super curiosa di vedere come usciranno e spero tanto che vi piaceranno, che vi rilasseranno tanto ovviamente vi consiglio di mettervi le cuffie e di rilassarvi, mettervi comodi e godervi tutto il video e come sempre ci saranno un po' di rumori di traffico di sottofondo perché ve l'ho detto varie volte abito al centro, centrissimo della città quindi il mio appartamento è super super rumoroso purtroppo non posso farci proprio niente ho provato insomma a filmare in altre parti della casa ma la stanza più silenziosa è questa, la mia camera e per quello che filmo qua i video ASMR e niente, allora iniziamo subito a fare gli slime ASMR poi alla fine del video mi direte qual è quello che vi è piaciuto di più e se questo video vi ha rilassato la ciotolina è un po' sporca ma non fa niente comunque allora per il primo inizio mettendo un po' di colla trasparente e purtroppo sto finendo mannaggia ho ordinato l'altro ma non arriva in tempo quindi spero di riuscire a fare tutti questi slime con questa colla perché in teoria vanno fatti tutti con la colla trasparente ma magari ne faccio qualcun altro con la colla bianca ora inizio ad attivarlo quindi vado a mettere la soluzione per lenti mi sono dimenticata di dirvi mi raccomando assicuratevi di lasciare un bel like su questo video allora prima che si attivite il tutto vado a prendere il mio ingrediente magico per questo crunchy slime ebbene l'ingrediente magico per questo primo crunchy slime sono le cannucce ebbene guardate che bei colori ora andiamo a mischiarli nello slime Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì, non è vero. ho dimenticato di dire che dopo li unirò tutte e tre assieme per vedere che super ASMR slime uscirà fuori e anche se ci sono Grazie a tutti. Allora, date un voto da 1 a 10 questo slime, in base a quanti rumori ASMR faceva e quanto vi sono piaciuti i rumori, e ora passiamo al prossimo. Allora, per il prossimo slime vado a utilizzare sempre la colla trasparente. Per questo secondo slime utilizzerò delle perline. Allora. 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 A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Date un voto da 1 a 10 anche a questo slime. Ora andiamo a fare l'ultimo slime. Speriamo che sia rimasta un po' di colla trasparente. Il terzo e ultimo ingrediente sono questi, cioè gli elastici di gomma. Grazie. 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 Tutte e tre assieme Vediamo cosa esce fuori Un po' di sottotitoli Un po' di sottotitoli Ma anche la strada Un po' di sottotitoli Dice Lo ... Con il mio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fatemi sapere nei commenti secondo voi quale slime ha vinto e se vi è piaciuto il risultato finale e se vi siete rilassati. Mi raccomando, date un'occhiata anche ai miei altri video slime ASMR, io vi mando un bacione enorme, alla prossima!